André? No, André, io so solo. Chi siete voi? Sono il maresciallo Giraldi dalla polizia. Cosa volete? Beh, io veramente vorrei tante cose, ma... soprattutto vorrei parlare di Roberto Ambrocci. Ah, povero Roberto. Ho saputo la fine che ha fatto. Mi dispiace molto. A qualche sera ci sono uscita. E qualche volta un tette a tette. Ma già del tette a tette? Eh? Ah, sì. Mi piace pure a me il tette a tette. Ah, ora che ci penso, maresciallo, io dovrei rinnovare il mio permesso di soggiorno. Mmh. Mmh. E io a tette potrei... ...di giorno, di notte, a pranzo, dopo pranzo, merenda. Quanto si è buona, oh. Maresciallo, lei è molto citato. Eh? Io sono due mesi che vado a un bianco. Sono più arrabato della raba stato da rapamento. Ha capito? Sì. Sì. Cosciò, 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 sì. Il cosciò, il tette, il culo, il tutto. Ah, è questo che stava da fare, eh? Cosciò, tette e il culo. È per questo che non volevi essere trasferito da Milano. Angeli, ma che è stato io? Io sto a lavorare. Ah, stai a lavorare, eh? Stai a lavorare facendo cosciò e tette con sta zoccolona a mezza nuda. Angeli, ma... Ma di come parla, sa? Io sono un'artista. Un'artista, sì. Un'artista del cazzo. Angeli, non essere così, vorgare, l'immortasci tua. Ma sta a far fare una figura del merda davanti alla signora. La figura del merda? La figura del merda l'ho fatta io, hai capito? Ah, stronzo. Andiamo, dai, andiamo. Ma va, te ne va. I miei rispetti, signora.